Prima di lasciarvi all'episodio ragazzi volevo scusarmi per la qualità audio Questi video, questi ultimi tre episodi sono stati pre-registrati tanti tanti giorni fa E purtroppo OBS mi ha corrotto il file audio Quindi se sentite la voce robotica mi scuso ragazzi Questo è l'ultimo episodio che avevo pre-registrato Mi sto riprendendo dall'influenza quindi sto per tornare a pieno E vi lascio al video, mi scusa ancora e buona visione Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Sims 4 Oggi cominciamo con la visione della nostra Marta che sta lavando il nostro Thor E ora li possiamo distinguere perché il nostro, uh è arrivato il compleanno di Alessandro Il nostro Raki in realtà è diventato anziano Quello che non capisco è il perché suo fratellino non è ancora anziano Visto che hanno praticamente la stessa età Quindi probabilmente da un momento all'altro mi diventerà anziano anche il nostro Thor Ovviamente i cani passano dell'età, il tempo passa, appunto c'è il compleanno di Alessandro Qualcuno ha anche apparecchiato alla tavola, lei ha fame Ma in questo episodio, visto che abbiamo ancora il giorno della festività fino alle 2 di notte Me ne vorrei approfittare se riesco con i tempi Per andare a piantare un po' di robe e magari far aumentare di molto L'abilità di giardinaggio delle due ragazze Quindi tornare al nostro giardino di Chiara Hanno finito, lei sta mangiando Aspetto un attimo, perfetto, stanno benissimo Direi che ce ne approfittiamo e andiamo E torniamo quindi al giardino di Chiara Nell'inventario della nostra Valentina Ho però preso il seme che ci aveva dato il nostro cuginetto vampiro Che ora vado a piantare Se non ricordo male dovrei averlo qua O magari nell'inventario di Marta Esatto E direi che lo possiamo piantare Così almeno acquisiamo anche una buona abilità Con il nostro... Uuuuh Ha bisogno di uno slot rivero Perfetto Dicevo, con il nostro giardinaggio Quindi direi che possiamo approfittarcene E magari piantare Queste sono tutte già piantate Magari possiamo anche curare il giardino Possiamo magari qua mettere delle piantine Tipo una di melone Mi piacerebbe molto Di limone, scusatemi E magari una di fagiolini Mi piace molto come idea Così almeno diamo anche un po' di continuità E facciamo un bel pianta E lo facciamo anche con lei Così almeno entrambe sviluppano In maniera più veloce L'abilità di giardinaggio Oggi dovrebbero poterlo fare E infatti resta già sviluppando tantissimo l'abilità Direi che non c'è bisogno di innaffiarle Da un momento che possiamo anche accendere in realtà L'irroratori E in effetti non ne hanno bisogno Perché piove Vi ricordo che con le stagioni Abbiamo questa abilità In tutto ciò Lei potrebbe fare qualche composizione Così almeno portiamo avanti anche quell'abilità lì Facciamo un bel margherite da 18 Mentre con lei proviamo a dar fastidio alle api Come sempre Quindi stringe un legame con le api Perché vorrei fare delle interazioni In tutto ciò Questo serve anche Come vedete Ad aumentare la socialità Spero non venga punta dalle api La nostra Valentina Vediamo un po' come si comporta Pare essere felice Mentre lei sta facendo quello che deve Qua abbiamo le foto a Selvadorada Della nostra nonna E anche del fantasma Che aleggia qua Nel nostro lotto Vediamo un po' Possiamo fare qualcosa Vendi il miele Raccogli il miele Finalmente Ok Con il miele Intanto le api non sono molto felici Cosa possiamo fare di bello Vediamo un attimo Dovremmo averlo qua 18 Qualità scadente Purtroppo Indossa una tuta da apicoltore Va bene Disturba Vediamo un po' Cosa fanno le api Se le disturbiamo Credo nulla E possiamo rimuovere la tuta E vediamo un po' Quali altre interazioni Stringiamo ancora un legame Sperando che le non spiatti Perché come vedete Lei è stata punta E intanto le ha raggiunto Il livello 3 Di abilità E ne approfitto Visto che manca ancora un po' Mancano alcune ore Per fare anche altre composizioni Quindi vediamo Intanto lei l'ha fatto Questo lo possiamo anche vendere E magari facciamo un'altra composizione Stavolta con le bocche di leone Perché no? E magari lo facciamo Crema azzurra Ci sta In tutto ciò Mentre lei fa queste robe Io proverai anche a piantare Tante cose Con la nostra Valentina Vi ricordo che loro dovranno avere Una buona abilità Di giardinaggio Entrambe Quindi sai cosa? Io farei un bel Colocale in uno scenario No Farei un bel pianta In questo modo Così almeno riempiamo Tutte le aiuole Dai Quindi con la nostra Valentina Facciamo un bel pianta Lei ha disagio per le api Per il resto Ha solo un po' di fame E un po' di bisogno Di andare in bagno I bagni ci sono nell'otto Quindi non me ne preoccupo E in tutto ciò Le piante stanno Beh devo dire Abbastanza bene Perché di stagione Sono quasi tutte di stagione Visto che siamo in primavera In realtà questa però Fuori stagione Inverno Il melograno Va bene ci sta Fintanto che lei fa questo Ok livello superiore Perfetto Brava la mia Valentina E la nostra Marta invece Sta per raggiungere Il prossimo livello Con l'abilità Di composizione floreale Questo lo possiamo fare 72 perfetto Sempre con la nostra Marta Che ha un sacco di bisogni Proverei a fare Qualche nuova interazione E farei la conoscenza Del nostro amichetto qua Quindi chiacchiera Con lo spaventapasseri E discutiamo di uccelli Vediamo un po' Tutte le interazioni Anche con lui Visto che non l'abbiamo ancora visto Nel nostro gameplay Salve signor spaventapasseri Come la va Come la va Intanto abbiamo il bagliore verde Della pianta del crescifrutto Quindi mi metto da questa parte Possiamo fare anche un bel Va in bagno Per favore Grazie Tieni l'ombrello E intanto il giorno Della nuova abilità Da non ripetere Per loro due Mentre per loro Sì è formidabile Perché hanno acquisito Nuove abilità Facciamo ancora Racconta la barzelletta Sul raccolto Facciamo anche Metti in dubbio La capacità Di spaventare i passeri Ci sta E parla di più del meno Vediamo un po' Come reagisce Il nostro simpaticone Vediamo un po' Pare essere interessato E dovremmo anche Sbloccare così Il nostro costume E dovrebbe anche Darci dei semi rari Che ci serviranno Per completare Tutta la collezione Quindi in realtà Voglio mirare A quello Come va? Tutto bene? Esamina lo spaventapasseri Vediamo un po' Se troviamo qualcosa Di interessante Nelle sue tasche Lo stiamo solo Esaminando Possiamo fare Chiacchiera ancora Parla di più del meno Così magari Facciamo un po' D'amicizia Vediamo un po' Abbiamo qua Lo spaventapasseri No Facciamo ancora Parla di più del meno Discuti di uccelli Perché dobbiamo avere Una buona relazione Con lui In realtà Le è molto felice Perfetto Parla di più del meno E esamina ancora Magari ora abbiamo Sbloccato qualche abilità Nuova Non credo Sbloccato l'abito Da spaventapasseri Per ringraziarti Della conversazione Ingradevole Toppi Adatto a Marta Un abito Con un cappello Da spaventapasseri Che ora sono disponibile In crea un sim Cerca semi nelle tasche E chiedi consigli Sul giardinaggio Che ci serviranno tanto Quindi ora Cerchiamo dei semi rari Magari riusciamo a trovare Qualcosa di bello E facciamo ancora Che vi consiglio Livello superiore Grazie a lui Chiacchera con lo spaventapasseri Discuti E poi lo possiamo fare Anche con lei Cerca semi nelle tasche Così almeno vediamo Un po' Cosa riusciamo a beccare Tanto lei sta mangiando Ha raggiunto il livello 3 Perché abbiamo chiesto Anche con lei Dei consigli Stiamo andando avanti In realtà Lei ha preso qualcosa di raro Rosa di Natale Non ce l'avevamo ragazzi Quindi gg E questa la piantiamo E magari facciamo anche Con la nostra sorellina Un bel pianta Ci troviamo nell'altra parte Della serra E in tutto ciò Loro hanno bisogno Di qualcosa Fai una ricerca Eh questo potrebbe essere interessante Vediamo un po' Cosa riusciamo a scoprire Delle nostre piante Probabilmente le troviamo Nel tappuino Nel nostro cellulare Vediamo un po' Cosa scopre La nostra Marta Cosa ha scoperto Ok perfetto C'è spuglio di peperoni Livello 3 di giardinaggio Vediamo un po' Cosa ha scoperto Quindi andiamo qua Eh se non ricordo male E qua nel tappuino Peperone Stagioni estate Una pianta perfetta Con cui punteggiare Il giardino Ci sta Tutto ciò Arrivata la Pasqua Ragazzi Arrivata la Pasqua E noi dobbiamo Tornarcene a casa Per festeggiarla Con i nostri genitori Visto che loro Sono entrambe andate A dormire in un cespuglio E sono stanche Direi che possiamo Anche andare via Se anche Restare un attimo In pausa Per capire un po' La situazione Collezioni Perché dovremmo essere Abbastanza vicini Siamo a 25 su 32 Quindi in effetti Mancano davvero Pochissime piante Davvero poche Quindi ci siamo quasi Siamo tornati a casa Loro sono molto stanche Quindi le manderei Un attimo A mangiare E a dormire Intanto In tutto ciò E poi Vediamo un attimo Come festeggiare La nostra Pasqua Intanto Dai dei doni Quindi lo possiamo fare Abbiamo lo spirito Festaiolo Quindi possiamo Suonare uno strumento Bevi eccetera eccetera Invita gli ospiti Lo faremo Bere Molto facile E cercare Le uova Per partecipare Clicca su degli oggetti Nello scenario E seleziona Dai la caccia All'uovo Io lo farei sempre Con la nostra Elisa Visto che lo possiamo fare Non possiamo farlo qui Prepara un rimedio Erboristico No Quanti semi abbiamo qua Ragazzi Davvero tanti E probabilmente Li apriremo con le ragazze Diamo la caccia All'uovo Magari qua dentro Sì Vediamo un po' Se lo troviamo Che abbiamo trovato Di bello Intanto Uuu Primo ovetto Diamo la caccia Negli scaffali di casa Non c'era nulla Diamo la caccia qua All'uovo Non troviamo nulla Proviamo qua Uuu Trovate un altro Diverso Ci sta Altre scelte Qua dentro Non ci può essere nulla Dentro il frigo Si potrebbero Sì Wow Possiamo cercare Dappertutto Ragazze Molto carina Questa dinamica Preparo una bevanda No Dentro la lavastoviglie Neanche Intanto il cane Come sta Sta male Aspettate Do un rimedio Sveglialati Probabilmente Da portare Dal veterinario E infatti Però io ho anche Da un dolcetto Del veterinario Del benessere Perfetto Avevo fatto la scorta Quindi dovrebbe stare bene E dopo questa Cerchiamo magari Qua da qualche parte Dai la caccia all'uovo Nel letto Uuu Carina Come cosa Vediamo un po' Se ne troviamo Non c'era nulla Proviamo in questo letto Forza Elisa Forza Dai la caccia all'uovo Anche qua In tutti i mobili Mi piace un sacco Questa dinamica Nella libreria Dai la caccia all'uovo Ok E' bello scoprire Le cose di casa nostra Stiamo andando A caccia alle uova Dentro casa nostra Intanto arriva Il rapporto Di diritti d'autore Qua dentro No Qua dentro No Nella vasca Uuu Nella doccia No Però ci poteva stare E qua invece Niente Non possiamo fare nulla Vediamo un po' Se nella vasca Troviamo qualcosa Di interessante Pare proprio di no Esatto Hai già cercato qui Ne cespulli di casa Mmm Li avevo tolti per i cani Eh Però magari qualcosa È rimasta Vediamo un po' Di capire dove potrebbero essere Queste benedette uova Magari qua dentro No Dentro la lavastoviglie Dentro la lavatrice Neanche Dove possiamo andare Quassù Intanto abbiamo La consigna della posta Qua abbiamo un'altra doccia Dove poter Quantissimo Oleon Qua possiamo cercare Credo di No Ma in questa vasca Si Quindi se io faccio qua Una bella caccia all'uovo Dalla caccia all'uovo Nel WC Wow Carina questa Qua non posso andare Va bene Seguiamo la nostra visa Mentre cerca le uova Dappertutto Vediamo un po' Ok Ne ho trovato un altro Nel water Bella Come cosa Qua dentro Dai la caccia all'uovo Nel PC Non credo Pagare bollette E poi lo faremo Qua no Dove potrebbe essere Sul divano Sul divano Eh si si Ci sta Ci sta Classico Qua nel cammino No Però comunque Abbiamo tanti posti Dove cercare Finché mi piace E abbiamo trovato Altre uova Siamo a 4 5 Non ricordo Quante sono le uova Anzi Ora controlliamo subito Quindi vado qua Su collezioni E vado a vedere Un attimo Uova decorative Siamo già 5 su 10 Magari riusciamo In questo episodio Proprio a Completare La diciamo Tradizione Ma anche La collezione Vediamo un po' Di cercare Caccia alle uova Qua Niente Qua niente Qua sul comodino Niente Non so bene Dove cercarle Vediamo un po' Qua dentro No Eh abbiamo Forse trovato Dappertutto Papabili posti Per le uova Eh Probabilmente si Anche dentro i fiori Ma dai Ma non ci credo Uh E intanto Torre è passato D'età È diventato Un cagnolino anziano Anche lui L'abbiamo trovato Sì Siamo a ben 7 7 Dai ci siamo quasi Qua dentro Attiva Laura Emotiva Ci potrebbe stare E possiamo anche farlo Nei cespugli Ragazzi Eh ma ditelo subito Allora Vediamo un po' Altro uovo Vediamo un po' Vediamo un po' Ne abbiamo altri No Qua dentro Intanto cerco In tutte le piante Vediamo un po' Eh se riusciamo Qua non lo può prendere Da quella parte Lo può prendere No Qua dentro si Perfetto Vediamo un po' Siamo a quota Wow 2 4 6 8 su 10 Ragazzi Ci siamo quasi E io proverei a farlo Anche qua dentro E anche qua dentro A questo punto Magari anche qua dentro Riusciamo Siamo a quota 9 Ok Ci manca l'ultimo Dai la caccia all'uovo Vediamo un po' 2 4 6 8 9 Manca l'ultimo Dai ragazzi Ce la possiamo fare Quindi dai la caccia all'uovo Anche qui Qua dentro Vediamo un po' Se la nostra Elisa È abbastanza fortunata Ovviamente abbiamo anche Dei doppioni Ma io cerco L'ultimo vetto Quello più importante Probabilmente Quello difficile da trovare Vediamo un po' Qua in mezzo E proviamo a cercare Anche qua fuori Da qualche parte Ecco In questi cespulli Io proverei a cercare Le uova Perché in teoria Dovrebbero esserci Un po' Dappertutto Quindi vediamo un attimo Vediamo un attimo Se riusciamo Mentre con le ragazze Lei ha solo bisogno Di andare in bagno Quindi vai pure in bagno E ce l'abbiamo fatta ragazzi Credo di aver appena Completato la collezione E infatti è così 3 5 6 7 8 9 10 E la collezione Dovrebbe essere Anche completata 8 su 10 Più 2 Uh No in realtà no E allora Continua a cercare Le uova Assolutamente sì Cara la mia Elisa Forza forza Dobbiamo trovarle Tanto Marta Sta trovando qualcosa Di interessante O comunque che non avevamo Spero di sì Manca l'ultimo pacchetto Di semi Apri questo E abbiamo delle mere Quindi in realtà La collezione Sta andando un po' Mare Vediamo un po' Con lei Guardate Dappertutto Possiamo cercare davvero Dappertutto Le uova ragazzi Abbiamo lasciato Degli spazi Papabilissimi Quindi ora Facciamo questo Sono le 18 Quindi poi ci occupiamo Di farli bere Di farli mangiare Eccetera eccetera Vediamo un po' Se lei trova L'ultimo uovetto Sarei felice Due di questo Vediamo un po' Da questa parte Niente Purtroppo niente Proviamo qua Qua tra le margherite Non me lo lascia fare Va bene Ah Dove potremmo trovare Le uova Proviamo un po' Dappertutto Forza Qua dovrebbe Però eh Qua dovrebbe poterlo fare Vediamo un po' Niente Niente Eh ragazzi L'ultimo uovo Si sta rivelando Un po' più difficile Da trovare Ma io non mi arrendo E provo Anche qua Magari riusciamo Quindi per favore Alessandro È passato d'età Ma come L'età adulta Ok Va bene Cosiamo È triste Eh lo so Alessandro Scusami Ma stavo cercando le uova Anche perché In ogni episodio In realtà facciamo Un qualcosa di diverso Credo di aver Appena completato Stavolta Davvero La collezione Vediamo un po' No ragazzi Ce ne manca Uno Ce la faremo Eh ce l'abbiamo fatta È strabiliante Un mammifero Riconoscente Con la coda Batufolo Ti manda un premio Come ricompensa E qual è il premio Niente premi Quindi probabilmente O è nella cassetta Della posta Oppure non so Tutte queste uova però Dove le mettiamo ragazzi Le voglio tenere Come ricordo E se ci stanno Qua sopra Vediamo un po' Sì Uno di questi Uno di questi Uno di questi Uno di questi Ah ecco Questo è l'uovo speciale Uovo decorativo raro Ci sta Ci sta Poi C'è uno di questi Da qualche Da mettere da qualche parte Qua sopra Sì Li mettiamo un po' Tutti a muzzo Però ci stanno Perché danno un bel po' Di texture Quindi ecco Vai qua Quello verde Quello così Quello con i coniglietti Mi piace molto Poi abbiamo altri posti Sì Li mettiamo magari qua Un po' di uova decorative Dai Cerchiamo di decorare Tutta la casetta Ok ragazzi Dai Così la casetta È molto più carina Abbiamo messo tutte le uova Ora Visto che sono le 22 Io proverei Sapete cosa Intanto a bere Quindi in realtà Possiamo fare Non so Altre scelte Aggiornano Da la caccia all'uovo Non mi interessa Segui la ricetta Per animali Potremmo farlo Magari in futuro Altre scelte Pasto veloce Facciamo magari Acqua Questo conta Come bere Credo Quindi altre scelte Non mi interessa Pasto veloce Acqua Lo so che gli sto facendo Festeggiare la Pasqua Con l'acqua ragazzi Ma tant'è Quindi altre scelte No Facciamo Una bel Pasto veloce Magari Acqua E vediamo un po' Se funziona In tutto ciò I cani stanno bene Dovrebbero aver fatto La tradizione Così Esatto Bene l'abbiamo fatta Possiamo invitare qualcuno Alle 22.49 Ma si dai Noi ci proviamo Invitiamo Di nuovo il coniglio No Invita nel lotto attuale Invita nel lotto attuale Invitiamo un po' tutti Nel lotto attuale Magari funziona Anche Bob inverno Perché no Invitiamo loro due Con lei Invito con lei Altra gente Tipo Lui Si ci sta E magari anche Jacopo Invitiamo nel lotto attuale Magari invitiamo No Non mi interessa viaggiare Facciamo Ok Perfetto Con lui invece Chi invitiamo di bello Magari Il nostro mipotino Wow Sta arrivando tantissima gente No in realtà Stanno dormendo tutti Però conta Se qualcuno arriva Dai dovrebbe contare Anche come festività Per il resto ragazzi Lei ha sonno e ha fame È andata già a dormire Lei invece ha disagio Perché Sta andando a pulire tutto Ok Poi pulisci pure qua Grazie mille La mia Marta E direi che sta procedendo Tutto bene Come vi ho detto ragazzi Le feste sono tante Si susseguono E stanno facendo sempre Le stesse cose Ecco perché Ho deciso di staccare L'ultimo episodio Con la storia dei vampiri Anche con questo Perché voglio dare Un po' Di respiro Ma anche un po' Di lore In realtà Al mio gameplay Perché altrimenti Ogni volta C'è la Pasqua C'è il carnevale Ci sono tutte le feste E diventa ripetitivo Però ragazzi Va così Mi sono voluto concentrare Sulle uova Perché ci stava Come ricordo Della Pasqua Piuttosto rispetto Alle altre tradizioni Ora visto che loro Stanno dormendo Lei sta bene Ha solo bisogno di socialità Mentre la sorella Di chi ha bisogno Di socialità E allora esatto Parla Parla con lui magari Tentazione amichevole Forza con tuo cugino È così simpatico Diciamo Quindi facciamo Un bel rallegra Facciamo anche Un bel spettegola Così magari Ecco La nostra socialità Aumenta Lezioni di sim Estroversi E potresti anche Svegliarti te E magari fare un bel racconta Ok Così almeno Ci occupiamo anche di quello Lei ha bisogno Di mangiare E facciamo Un bel pasto veloce Così almeno Siamo tranquilli Facciamo un bel cereali Così almeno Uh intanto Il compleanno Di Elisa Torre affamato È vero No Non capisco il motivo Chiama L'animale Per mangiare Tor Chiama l'animale Per mangiare Ok no Si è riuscito Perfetto Lei sta bene Anche lei ha bisogno Di mangiare E ok Sta per diventare Adulta Anche lei ragazzi Mentre le gemelle Quando mi diventano Giovanni adulte In tutto ciò Festività Rissa di quartiere Questa è nuova Ok Abbiamo Il giorno dell'amore Abbiamo la rissa di quartiere Va bene Beh però devo dire Che la famiglia Si comporta bene Abbiamo passato La Pasqua Un episodio Un pochino più sciallo Rispetto agli altri Perché comunque Con loro due Voglio solo Completare le tradizioni Non abbiamo trovato Di semi speciali Per quanto riguarda Diciamo Il giardino di Chiara Però direi che Non ci possiamo lamentare Lei sta bene Deve solo Parlare con qualcuno Lei sta bene E allora sapete cosa Tornerò un attimo Al giardino di Chiara Con loro E cercherò di piantare Il più possibile Per portare un pochino in alto L'abilità di giardinaggio E andare avanti Perché comunque Anche loro diventeranno Giovani adulte Ad una certa E per loro Ho in mente Delle belle robe E torniamo Così al giardino di Chiara Con una valentina Che festività Terribile E va bene E so via Dai dai Farei un bel Vendi tutto Mi piace Come idea Così almeno Tiriamo su un po' Di simoleon Vendi tutto Ah ok Sta facendo da sé Perfetta Brava la mia Simpaticone L'oro L'oro però Hanno bisogno di Fertilizzarle No C'è spugno di peperoni No Hanno solo un altro colore Ma tratto in inganno Va bene Lei dovrebbe andare in bagno Allora E qua stanno tutti bene Dai Sì 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 Dire che ci sta Ci sta Cos'è questa roba Cos'è questa roba Qua a terra Uh Loro devono però andare A scuola A scuola Ok Perfetto Ah ma sono i raggi del sole Attraverso il vetro Non capivo ragazzi Esatto Abbiamo i raggi del sole Che arrivano alle nostre piantine E le rendono belle belle sane In tutto ciò Lei ha deciso di andare a dormire Là dentro Mentre quest'altra Come vedete Ha i bisogni Molto molto veloci E quindi come vedete Passano da un bisogno All'altro Comunque loro stanno andando a scuola Quindi le lasciamo andare E magari passiamo al controllo Dei nostri genitori E quindi le ragazze Le facciamo studiare sodo Dire che ci sta La mamma Sta benissimo E allora sapete cosa Io ora ho il cavalletto da pittore Andrei a fare qualche quadro Così a muzzo Nel quartiere Perché finalmente Possiamo permettercelo E qualcosa che volevo Da tanto Quindi in realtà Lo possiamo fare Io andrei però Al parco nazionale E direi di andare Con il nostro maritino Perché no E magari anche i cani Ma si dai Facciamo una passeggiata Tutti e quattro E magari lì Ce ne approfittiamo Per fare qualche dipinto Bello da vendere Ok Abbiamo raggiunto Il nostro bel parco Ok Salve Come va Direi che possiamo Venire qua Tutti insieme E magari posizionare Nello scenario Questo cavalletto Vediamo un po' Dove lo posiziona Mi piace E magari da qua Facciamo un bel dipinto Di Modello Ci sta Grande Forse Forse dobbiamo fare Un bel dipinto Di nostro Marito Alessandro Lo spirito di Axel Sta svanendo No Non possiamo fare questo Ma possiamo fare Magari Una bella foto Alla casetta Qua davanti a noi Vediamo un po' Se ci piace Questo scorcio Sì Speriamo di fare Un bel capolavoro Così magari Poi li rivendiamo Vediamo un po' Se è un capolavoro No Non lo è Però possiamo comunque Venderlo Per 1291 Simonio Quindi va bene Metti nell'inventario Posso Grazie Perché mi voglio spostare E magari fare Delle foto Se riesco Magari Vado qui Grazie Metto questo Nell'inventario Per capire un po' La direzione Eeeh No Questo mi permetterà Di fare dei quadri In realtà Un pochino brutti Vediamo un po' Vabbè Da quella parte Ci possono essere Le zucche Quindi dai Facciamo un bel Dipingere da un modello Grande Direi che ce ne approfittiamo Per fare un tanto Reappestato L'unica cacca In tutto il lotto Diciamo Possiamo fare una bella foto Delle zucche Qua davanti a noi Quindi facciamo così Magari E facciamo un bel dipinto Così con la zucca Con la casetta delle api Secondo me dai Ci sta È un bel dipinto E ci siamo quasi Spero sia un capolavoro Manco per niente Va bene Lo vendiamo Intanto però Posso dare il dolcetto del veterinario A lui Sì grazie Non alla clinica Diamo un bel dolcetto Quindi vieni qua Grazie Così ti curo Lui intanto è sporco Che fa la nostra Elisa Sta andando a mangiare Anzi no Vicino al fuoco Ci sta Ci sta Ma direi che possiamo tornare a casa Perché sono anche tornate le ragazze da scuola Quindi è arrivato il momento di tornarcene Tutti a casa Anche per i cani Che come vedete Sono messi un po' male E quindi torniamo a casa Con i nostri cagnolini da lavare Anzi in realtà io mi preparerei a fare un bel bagnetto a lui Perché in realtà il nostro Lucky sta benissimo E che dire ragazzi Questo è stato un episodio un po' on the road Tra giardinaggio Tra uova di Pasqua Tra anche i nostri dipinti un po' a giro Ho voluto fare un episodio un pochino più sciallo Dove abbiamo visto anche la nostra famiglia muoversi Non stare statica In realtà a casa Come abbiamo visto negli ultimi due episodi Che erano incentrati invece sul vampirismo Ma detto questo Vi dico che per questo episodio è tutto Io spero che vi sia piaciuto E se è così vi invito a mettere un mi piace Iscrivervi al canale E farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate Trovate come sempre qui il pulsante Per iscrivervi ai altri video Io vi do l'appuntamento Al prossimo vi dico Ciao a tutti Ciao a tutti